Una volta pensavo che morire fosse la cosa più grave che potesse accadermi. Ora so che non è così. Ora posso dire con assoluta certezza che la cosa peggiore nella vita di un essere umano è il dolore. Esistono dolori che nemmeno la morte può cancellare. Dolori con cui l'umanità dovrà convivere fino alla fine dei giorni. Il dolore ti può uccidere in più modi e io li ho provati tutti. Penso che le azioni che compiamo durante la nostra vita, buone o cattive che esse siano, ci rendano ciò che siamo. A volte anche le azioni degli altri ci cambiano. Mutano la nostra mente, lacerano la nostra carne e logorano la nostra anima. Finché nello specchio non riusciamo più a riconoscere ciò che eravamo. Il mio nome Era Alice Se mi state guardando significa che ora provo meno dolore Perché sono riuscita ad avere la mia vendetta Sulle azioni degli altri Buona visione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi chiamo Alice E questo è il mio primo Se mi state guardato K Grazie a tutti.